Per prendere un biglietto, soltanto 300 biglietti, è una fortuna veramente che non si può descrivere, no? Credo che qua oggi ci sarà qualcosa di magico, mi dispiace che molta gente lo potrà vedere, ma qua ci sarà qualcosa di speciale. Io la vita la prendo con me, questo viaggio che parte da sé, che non chiede il permesso mai a me, io la vita la prendo con me, io la vita la prendo con me. Ho già prato il gol per l'anno prossimo a Roma, quindi... Io penso che questo concerto sia unico e indimenticabile. Ti va di stare bene, che non ricordo più, che effetto fa la vita, se te esorciste in più, ti va di stare bene, che non ricordo più. Che effetto mi fa il cielo, quando ci sei tu, ti va di stare bene.